Mi ricordo che due anni fa circa, in occasione del trasferimento del nostro ufficio in Italia a Torino, c'era stata una pioggia torrenziale. A causa di questa pioggia molti fascicoli di alcuni dei nostri clienti erano stati fortemente danneggiati. Affinché non fossero totalmente danneggiati, abbiamo dovuto fare un gran lavoro di squadra e grazie a questo siamo riusciti a recuperare i fascicoli e a pulirli dal fango. Ho trovato la stessa collaborazione, lo stesso entusiasmo in occasione dell'apertura dei nuovi uffici a Milano. Sono stata molto colpita da questo e penso che rappresenti proprio il valore di condivisione nella nostra azienda, sia in Italia che nel gruppo Reliance. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.